Prima di iniziare con il video, signori, vi devo chiedere un piccolo favore, quindi vi chiedo di ascoltare attentamente quello che sto per dirvi. Per chi è in zona di Bologna, o deve andare a Bologna, o comunque ha una casa e cerca coinquilina, c'è una mia amica che sta appunto cercando coinquilini perché deve studiare a Bologna. Quindi, eventualmente, se state cercando coinquilini, fatemi sapere scrivendomi su Instagram, con il link in descrizione per scrivermi su Instagram, così nel caso vi lascio il suo contatto perché deve studiare. Quindi fatemi sapere, mi raccomando, molto importante, è zona Bologna, non penso che dipenda molto in che zona di Bologna, basta che cerchiate coinquilinio, comunque abbiate delle camere e così via per ospitare una persona che deve studiare, ha bisogno appunto di alloggio a Bologna. Grazie mille per la comprensione e per l'ascolto, vi lascio il video. Signori, oggi sono particolarmente giù di morale, ma non perché la mia squadra del cuore abbraccio la bardetta, non perché la maggiore televisiva è morta il mio personaggio preferito, ma perché, ragazzi, è arrivato quel giorno. Quel giorno che in realtà mi aspettavo che mio po' sarebbe arrivato, però non mi aspettavo neanche, cioè, che appunto mi desse questa vota abbastanza forte. E lo so che sembra che sto esagerando tutto ciò, però devo essere veramente sincero con voi. Questa cosa mi ha, diciamo, abbastanza destabilizzato, perché è stato un gran percorso, un'avventura, una, diciamo, un modo per farmi passare il tempo al meglio, che era da un po', in realtà, che un videogioco mi dava tutta questa vibe, ecco, interessante. Cioè, non tanto per il fattore lore, ma più che altro ho fatto il gameplay, io di lore un po' meno, quindi bla bla bla. Signori, ho finito il DLC di Elden Ring. Ho finito Shadow of the Airtree, quindi ho ufficialmente concluso l'arco di Elden Ring. Dopo tantissimi try, vi dico, almeno due giorni di try, ecco, per intenderci, ho sconfitto Radhan. Ho sconfitto Radhan, grazie a Tommasino. Per chi viene in live sa cosa intendo, sa che è Tommasino. Tommasino, grandissimo mimic. Mi ha ucciso Radhan mentre ero morto e mi è uscita la magica scritta divinità sconfitta. Ho ucciso, non mi ricordo. E lì è stata l'emozione più grande del moglio. Perché avevo sconfitto uno dei boss più impossibili e difficili della storia di FromSoftware. Ma devo dire che anche uno, secondo me, dei più belli che hanno mai creato, perché mi dà un senso di sfida e di pericolo che pochi boss mi hanno dato. Comunque, in Elden Ring neanche Malenia. Malenia, se devo essere sincero, vabbè che è una build abbastanza rotta, però comunque l'ho sconfitta abbastanza velocemente. rispetto a quanto ci ho messo con Radhan. Cioè, giocare al gioco normale non ho mai avuto quella sensazione di oddio, adesso questo non riesco a sconfiggerlo, oddio, questo è veramente impossibile, devo rebuildarmi o magari devo cambiare qualcosa. No, io mi rebuildavo solo perché volevo cambiare. Invece il DLC mi ha costretto molte volte a farlo, doveva farla questa cosa, anche per capire dove potevo, diciamo, migliorarmi nella boss fight e così via. Quindi tanta roba e sono veramente contento di aver giocato a questo giocone. Cioè, veramente, è stata un'avventura fantastica. Altrimenti non ci avrei messo cento ore e passa a finire il gioco. Stavo pensando di fare New Game Plus, però sinceramente non sono proprio una persona che si metta a fare New Game Plus, ecco. Cioè, New Game Plus lo farei se, boh, proprio volessi rigiocarmi il gioco facendo le quest che magari non ho fatto o così via. Cioè, comunque, principalmente New Game Plus lo farei sul DLC perché veramente ho capito che ho saltato tante cose e dato che l'ho pagato 30 sbomboli se meriterebbe magari di giocarlo un po' meglio al The Ring, ecco. Però sono una persona a cui piace anche molto cambiare, no? Quindi, più che altro sull'ambito videoludico, quindi diciamo che... Ho già iniziato un altro gioco, ovviamente. Che cazzo di domande su? È ovvio che iniziavo già un altro gioco. Ho iniziato, signori, una cosa che molta gente mi odierà e mi picchierà perché mi dirà, vecchio, ma potevi iniziare un'altra cosa? Cioè, che cazzo ti metti a far quello? Ho iniziato Nioh 2. Nioh 2, per chi non lo conoscesse, il gioco del Team Ninja è un suslike, se vogliamo chiamarlo così, stile giapponese, samurai, cioè a me praticamente fa impazzire. Molto difficile, ecco. Diciamo che molta gente in questo caso potrebbe dirmi, cazzo giochi a Nioh 2 e gioca a Sekiro. Arriverà anche Sekiro, arriverà anche Sekiro, con calma, con calma, ho bisogno di variare un pochino. Capisco che ora sto facendo, ho finito Elden Ring, sia il gioco base che il DLC, cose magiche, From Software, la mia vita, mi metto a 90 per te, però vorrei anche provare cose un po' diverse che volevo già provare in precedenza perché Nioh 2 lo volevo iniziare prima già di iniziare Elden Ring, quindi proprio una cosa un po' vecchiotta, ogni qualche mesetto che mi porto dietro. Quindi io l'ho provato e ovviamente ho giocato neanche un'oretta perché era tardi, però stasera vediamo se provarlo o meno se sono a casa. Voi ragazzoli come state questo piccolo vidiettino, questa piccola introduzione dove vi spiegavo che appunto ho finito questo gioco Elden Ring che mi ha dato anche una sensazione abbastanza triste perché ci sono rimasto effettivamente male, cioè comunque è stato un gioco che mi sono veramente goduto. Per quanto mi abbia fatto bestemmiare, sclerare in determinate situazioni, un po' per cose che non mi piacevano tantissimo di gameplay e altre robe, tipo il fatto che i Perry non esistono, perché noi ci sono, ma sono abbastanza... Io fate conto che l'unico Souls-like che effettivamente mi sono finito tutto bene è stato Lies of Pit, quindi mi sono un po' viziato nel senso di pin pin pin, contraattaccare tutto alla Sekiro, no, infatti è anche uno dei motivi cui Sekiro mi piace un sacco, solo che ne ho mai finito neanche quello, un'altra mancanza ecco, ma riederà anche quello, magari se mi gira farò quello al posto di Dio, non lo so, vediamo, dipende un po' come mi gira ragazzi, tutto un dire. Quindi ecco sono stato vizzato in quel modo, Elden Ring, io non sono mai stato proprio avvezzo ai Souls in generale, no, diciamo che è sempre stato un po' uno di quei giochi che ho trovato un po' lentucci, non proprio godibili nel senso di meccaniche e così via, invece Elden Ring devo dire che l'hanno fatto veramente bene, cioè Elden Ring si è voluto veramente tanto bene, io le uniche esperienze di Souls che ho avuto sono state Dark Souls 2 e 3, io l'uno non l'ho mai giocato, il 2 è quello che ho giocato di più, quindi potete già immaginare la situazione, il terzo lo provai ma non andai mai troppo avanti ecco, è quello il problema che le lasciavo sempre a metà per la non voglia di starci dietro e magari questa cosa adesso mi è un po' passata, comunque essendo un po' più avvezzo ai Souls, magari li riprenderò in mano, anche Demon Souls, vabbè quello è solo per PS5, però non si sa mai ecco. Ragazzuole, ove come state, come va tutto bene, ditemi un po' chi ha giocato Elden Ring, chi l'ha finito, chi non l'ha finito, sia il gioco vanilla che il DLC, così almeno capiamo un po' a che punto siamo tutti insieme, no? Tutti belli, felici e contenti. No, di signore andrò al lavoro, stamattina sei già staccata la corrente due volte e il mio pc è spento in questo momento, speriamo che non sia morto, io adanzo che ci sono stati dei cali di corrente abbastanza importanti, quindi speriamo bene ecco signori, è una grandissima altura di coglioni. Ah, vorrei dire solo una cosa, SkyWifi 48 ore per fixarmi la connessione, io ho ancora un megabyte in download. Poi vedete che cazzo vuoi fare, no? Perché io ieri ti ho chiamato, mi ha detto aspettiamo quanto, dove? Così vediamo che succede. Se tu oggi mi chiami, perché tu oggi mi chiamerai, mezzogiorno è qualcosa, e se non è connessione ancora posso, io ti stacco la testa, perché non è possibile che io devo avere sfiga con queste cose, che si debba stabilizzare quel cazzo che vuoi. Però vecchio, non va bene un download, cioè capite qual è il problema? Vabbè, 600 di ping, no? Roba di sto tipo. Ragazzuoli, io vi salustio, diciamo che vi ho spiegato un po' le mie emozioni qui al The Ring. Scusatemi, a chi non piacciono i videogiochi, se in questo periodo faccio abbastanza video dove parlo di videogiochi, ma sono in un mood abbastanza importante, dato che il The Ring mi ha, diciamo, cambiato abbastanza l'esperienza videoludica, se voglio dirla così. A parte che se non giocate ai videogiochi non so come cazzo facciate a vivere, nel senso di fare una cosa stra fondamentale. Vabbè, ma nel senso, ognuno dei suoi gusti, sto abbastanza scherzando. Ecco, non sto dicendo siete dei coglioni che non giocate ai videogiochi, però effettivamente, a volte ne parlo, no? Di sto fatto qua, anche con Gianluca, il fatto che lui, per esempio, non gioca ai videogiochi, però ne capisce magari l'arte e così via. E quello ci può anche stare come cosa, in un certo senso. Però c'è quella gente che non gioca ai videogiochi e vede solo il male dei giochi, no? Vede solamente la merda. Ah, perché magari vede solamente Fortnite, Call of Duty, vero Marco Tomassini? I videogiochi fanno male, non fanno niente. Dai, vai te, leggiamo le Call of Moor. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e niente, vi avevamo una fantastica giornata.